Un po' in anticipo rispetto al solito, sono le 9.37 minuti, ma almeno così ci prendiamo il tempo di andare a fondo rispetto all'ultimo argomento della puntata di oggi di Place e dell'ascolto o alla visione di RBA, a seconda di come ci state seguendo. E prima della pausa con le notizie di Popolare Network ho però annunciato che avrei parlato, sarei tornato a parlare con il giornalista e autore Leonardo Bianchi a partire dal suo ultimo libro che sta proprio cominciando a presentare in questi giorni, in queste settimane. Si intitola Le prime gocce della tempesta, si parla di estremismo e di violenza di estrema destra a livello internazionale negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi anni ma anche un po' negli ultimi decenni. Insomma, non vi anticipo troppo, intanto vado a salutare Leonardo, ciao e bentornato su RBA. Ciao, ciao, buongiorno a tutti e tutte. Allora, come ti dicevo fuori onda, ci sono davvero tantissime cose che ti avrei voluto chiedere di questo libro, edito da Solferino e che ho letto, molto molto interessante anche se inquietante per forza di cose visto il tema di fondo. La domanda più difficile da chiedere a un autore di un libro credo sia di che cosa parla il tuo libro e allora te la pongo in maniera leggermente diversa, ti do un altro spunto. Da dove arriva questo titolo? Che cosa sono le prime gocce della tempesta? Allora, in realtà la risposta in questo caso è semplice perché parla di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, cioè quello che va dagli anni Ottanta fino adesso. Più precisamente il periodo preso in esame, diciamo, da Breivik, quello cruciale che fonda il nucleo del libro, è dall'attentato di Oslo e Utoia nel 2011, commesso da Anders Breivik, fino agli ultimi commessi negli ultimissimi anni, negli Stati Uniti e altrove. Il titolo viene appunto da una, questo titolo evocativo, in realtà è molto poco poetico e viene da una lettera che lo stesso Breivik ha scritto nel 2012, rivolta a Beate Scepe che è una terrorista neonazista tedesca che ha fatto parte, l'unica sopravvissuta della cellula clandestinita nazionalsocialista. E in questa lettera appunto Breivik scrive, elogiando le gesta della camerata, scrive che loro saranno, che non deve preoccuparsi di quello che sei in carcere adesso, che tra poco, qualche anno, le carceri di tutta Europa saranno pieni di patrioti e di conservatori culturali, come si autodefinisce lui, e che saranno entrambi ricordati come dei martiri della rivoluzione conservatrice. E poi appunto Breivik alla fine scrive, siamo le prime gocce di una tempesta purificatrice che sta per abbattersi sull'Europa. Chiaramente nei Breivik, nei Scepe sono le prime gocce, perché in realtà poi come dimostro nel libro, attraverso varie ricostruzioni, la tempesta dell'estremismo di destra violento infuria già da tempo su tutto l'Occidente. Esatto, sì, se dovessimo tirare indietro le fila fino all'inizio si arriva proprio al nazismo originario, chiaramente i primi riferimenti poi post-nazisti sono a Hitler, chiaramente c'è sempre il filo del Mein Kampf che torna come libro letto, riletto e citato. Nel corso di questi decenni la cosa che colpisce molto è che credo sia proprio il fulcro di questo tuo testo e il filo proprio che collega tutti questi eventi, perché appunto noi forse li abbiamo raccontati, tu parli di Breivik, parli di Traini, parli di Tarrant nella Nuova Zelanda, li abbiamo sempre raccontati come eventi separati l'uno dall'altro, comunque non così collegati, invece si citano sempre a vicenda oppure leggono gli stessi testi, seguono le stesse personalità e c'è appunto questo collegamento fra di loro. Ma voglio concentrarmi sul racconto di questa cosa perché ci sono alcune parole che tu citi nel corso del libro e che a me sembrano raccontare una storia di per sé, ci sono minimizzare, rimozione, annacquare e poi sdoganamento, perché queste posizioni appunto vengono prima minimizzate, poi un po' annacquate e poi alla fine paradossalmente diventano quasi mainstream in alcune situazioni. Mi citavi Orban fuori onda, quello è solo un esempio. Sì assolutamente, sono un parole che ritorno perché se gli attentati seguono un certo pattern, c'è una certa ricorsività, come giustamente fai notare tu negli attentati, si ispirano appunto gli stessi manifesti, si copiano a vicenda, si autoplagiano, cercano di emulare l'un l'altro per arrivare al punteggio, cioè al numero di morti più elevato possibile. C'è anche un elemento di gamificazione in questi attentati, poi magari ne parliamo. E dall'altro lato appunto anche la reazione ricorsiva, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, questi attentati o non vengono riconosciuti come tale, oppure sono atti, descritti come atti di persone folli, cioè di pazzi, che non hanno nulla a che fare con la società in cui viviamo, che sono completamente scollegati dalla politica, dalla società e anche da un certo tipo di cultura e non si capisce perché facciano questa cosa, cioè l'unica lente attraverso cui leggere questi atti è quello della psichiatria spicciola ovviamente. E quindi la matrice, la famosa matrice, viene sempre derubricata. Nel caso di, visto che siamo in Italia, appunto il caso di Traini è eclatante. Luca Traini che ricordiamo è l'attentatore che il 3 febbraio 2018 ha ferito 6 persone nere sparando per strada, punto, in giro, terrorizzando Macerata. aveva tatuato in faccia, aveva diversi tatuaggi, tra cui uno in faccia, di simboli neofascisti e neonazisti e basterebbe questo per dire che non siamo di fronte a un Boy Scout, ecco. E però non è stato riconosciuto come tale. È stato riconosciuto come tale, questo è anche uno degli elementi che sottolino nel libro, è stato riconosciuto come tale dagli altri attentatori, perché il nome di Traini, è stato riconosciuto come pari dei suoi simili, ecco, perché il nome di Traini è comparso sul caricatore delle armi usate da Brenton Tarrant nell'attentato di Christchurch e poi ricorre in altri, in vari manifesti. Quindi tra di loro sono perfettamente quello che stanno facendo e tra l'altro sfruttano anche cinicamente la minimizzazione per far sì, da un lato, di sfuggire dall'attenzione delle forze dell'ordine e dall'altro per veicolare determinati messaggi che fanno parte di un nuovo linguaggio, anche questo sono degli elementi che devo sottolineare molto nel libro, cioè questo nuovo linguaggio, queste nuove parole d'ordine che gli iniziati comprendono benissimo, cosa voglio dire, il pubblico in generale li interpreta come delle parole neutre e qua il caso principe su tutto è sostituzione etnica, che è appunto una teoria del complotto razzista che ormai è totalmente normalizzata e sdoganata e fa parte proprio della propaganda politica normale di tanti partiti, di compreso anche il nostro governo. Esatto, sì, sì, purtroppo sì, anche loro li inseriamo in mezzo, non a caso, quando parliamo di minimizzare a me viene anche in mente, giusto per citare, un episodio recente, quei saluti Romania da Calarenzia, che sono stati appunto enormemente minimizzati, lì non c'era la violenza specifica, non c'era il terrorismo specifico, ma quando si parla appunto ecco di anacquare culturalmente un certo tipo di discorsi, quello chiaramente ruota intorno a quell'elemento. Ma hai citato qualcosa che mi ha acceso una serie di ricordi, ovvero la definizione di questi attacchi terroristici come non attacchi terroristici, ma gesti di folli e mi ricordo all'epoca in cui purtroppo c'erano molti attaccati terroristici da parte dell'ISIS in Europa che veniva fatto notare questo contrasto, se sono dell'ISIS sono terroristi, se sono invece bianchi di estrema destra sono dei folli. E la cosa mi fa un po' specie, perché tu parli molto in questo libro dell'ispirazione proprio presa dall'ISIS, cioè la struttura di questo, o forse anzi la mancanza di struttura di questo nuovo, te virgolette, terrorismo di estrema destra, cita proprio l'ISIS come ispirazione, cioè non ci stiamo mettendo assieme in luoghi segreti, in stanze che nessuno vede e stiamo coordinando gli attacchi. Si cerca di ispirare a persone uniche, individuali, atomizzate, l'attacco terroristico. E' molto inquietante il fatto che l'estremo destra, è molto strano anche che l'estremo destra si stia ispirando all'estremismo islamico. Allora, qua c'è da fare una piccola premessa anche per far capire la differenza tra questa forma di terrorismo e quella che anche in Italia siamo abituati a conoscere, cioè quella degli anni 60-70. Negli anni 60-70 c'erano tipo ordine nuovo, quindi erano strutture gerarchiche, molto rigide, che avevano elementi di contatto con i servizi, con la Nato, eccetera, e quindi agivano anche per conto terzi. E quella era una struttura partitica, verticistica. Adesso siamo di fronte alla totale polverizzazione di questa forma di violenza politica, nel senso che non esiste più alcuna struttura, non esiste più alcuna organizzazione, infatti parlano gli esperti di terrorismo post-organizzativo, non esiste più, come dici tu, un punto di ritrovo. Molti attentatori nemmeno hanno mai fatto politica in vita loro, non hanno mai militato, nemmeno in movimenti extraparlamentari, non hanno mai avuto contatti con la politica politicante, diciamo così, ecco, la politica partitica e movimentistica. Ma si autoradicalizzano su internet fondamentalmente. In questo ci sono dei punti di contatto con il terrorismo jihadista, che però ha avuto una sua evoluzione, cioè questa forma di terrorismo di estrema destra nasce in realtà negli anni 80 da alcune elaborazioni teoriche di neonazisti americani, soprattutto, che per evitare di essere infiltrati dalla polizia, dall'FBI, hanno deciso di sciogliersi praticamente e di formare delle piccolissime cellule o, appunto, di andare a creare una sorta di framework in cui il ideologico, organizzativo, politico, chiamavano come vogliamo, in cui anche il singolo attentatore non ha bisogno di un comando per agire, ma basta che aderiscono ideologia e poi di conseguenza può agire come meglio crede, basta che colpisca i nemici di sempre. In questo c'è un'analogia con il terrorismo jihadista, ma le analogie più diciamo quelle che anche emergono da manifesti materiali propagandistico è soprattutto un'analogia estetica, iconografica. Ci sono molti manifesti, ad esempio, in cui manifesti di immagini di propaganda, in cui militanti di estrema destra, di questa nuova estrema destra, di nuova generazione, si dipingono come tutti bardati di nero con la maschera, con la Skull Mask, che è la maschera del teschio, che è uno dei simboli distintivi di questo nuovo estremismo di destra e sembrano dei militanti dell'ISIS fondamentalmente. Questo perché l'ISIS incute timore e quindi è un qualcosa da copiare, a cui ispirarsi. Addirittura c'è anche una forma di sincretismo che fa un po' pugni con la logica. In alcuni manifesti si arriva addirittura a elogiare Osama Bin Laden. Cioè siamo a questo livello qua, quindi c'è proprio perché... Nel frattempo le posizioni sono estremamente anti-arabe, anti-musulmane, cioè quello che vogliono fare nei propri paesi è l'eliminazione magari proprio di quelle minoranze, proprio di quelle nello specifico, tutte quante, ma quelle di questa fede... Sì, ci sono comunque delle convergenze allucinate, le definirei io, che non hanno senso a un punto di vista logico, però ce l'hanno e come da un punto di vista propagandistico e iconografico. E anche ci sono proprio dei punti di convergenza anche ideologici, perché ad esempio il ruolo delle donne, soprattutto, le donne sono viste più o meno alla stessa maniera dei terroristi sciadisti e quelli di estrema destra. Cioè devono essere subalterne, soggiogate e devono pensare alla famiglia, ovviamente. Chiaro. Insomma, l'ultraconservatorismo, che sia negli Stati Uniti o che sia in Medio Oriente, alla fine cambia qualche dettaglio, ma all'incirca arriva da... insomma... Sì, poi ovvio, tra di loro si sparerebbero addosso subito, ecco. Chiaro, 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 chiaro. Allora, ci saranno tante cose davvero da raccontare di questo libro che, appunto, ho avuto piacere di leggere e devo dirti, ho apprezzato molto il fatto che racconti molto nel dettaglio tutto questo, ma lasci un qualcosa fuori, nel senso ci fai un po' intuire che non ci sia tutto all'interno di questo libro, in parte perché leggero davvero tutte quante queste storie sarebbe stato forse eccessivamente pesante, dall'alto perché un po' ci fa capire che, appunto, non si tratta soltanto di persone singole, ci sono tante persone all'interno, insomma, ovunque, soprattutto online, che agiscono e ci fa un po' capire, insomma, questo piccolo, non dico mistero, ma questo non detto nel dettaglio, ce lo fa capire tutto, ma invece nel dettaglio si va moltissimo su alcune storie singole, molto significative. Il libro è le prime gocce della tempesta, appunto, lo ha scritto Leonardo Bianchi, lo si trova, ormai credo, tranquillamente, in libreria, sì, ci siamo già? Sì, sì, sì. Ok, ok, quindi, insomma, lo si può trovare tranquillamente, grazie mille Leonardo Bianchi per questa intervista e alla prossima. Grazie a te. Noi ci prendiamo adesso un brevissimo momento di pausa e poi ritorniamo per i saluti finali.